Yo homies eccoci qua con un altro episodio giochiamo insieme, io sono nevastotoplay e tu chi sei? Sono bigboss299, cioè 299 e oggi siamo qui con un adventure map che solo doveva dire lui però non me ne importa Infatti, come si chiama questa map che io neanche me lo ricordo cavolo The Dropper The Dropper? Allora, dobbiamo leggere, di solito si fa di leggere le cose che ci sono scritte qua, ok, leggiamo o ce ne freghiamo? Eh, benvenuti in Dropper 1.4 BBG, ok ciao Bigger, ci vediamo Perfetto, ci sono regole? Ah, sai che me frega a me Vediamo l'ender distant far, ma te sei matto, io metto minimo Eh, anch'io, anch'io, infatti noi siamo troppo fighi per questo, cioè che cavolo Vai Guardate, guardate qua che bellezza, tutto bianco e tutto bianco Che cavolo devo dire? Tutto bianco e tutto bianco, ok Partiamo proprio alla perfezione Ok, qui c'è un letto Oh, sì, un letto Certo, oh, che cos'è questo colore? Perché c'è colore qua? Perché siamo fighi, non lo so, cioè non ci ho mai giocato Ma tu sei admin, vero? Io, io sì, sono, sì, sono, sì, sono, sì, sono l'admin, sì Allora, fai slash, premi T, fai slash Devo premere T e poi faccio slash, e poi? Team Team, ok Poi, staccato set Staccato set Staccato quindicimila Quindicimila? Sì Quintici, quanti zero ha quindicimila? Ok Ok, e cosa deve succedere? Un home command Perché un home? Ho sbagliato qualcosa? Allora, devi fare così Allora, però senza il punto Team Set Se no fai 1500, prova con 2500 Slash Ah, ah Col punto devo farlo senso? O senza? Senza Senza il punto Ok, slash Time Set 1, 5 0, 0 Sì You don't know Ah, perché non? Ah, è vero, no No, non sono proprio l'admin Va bene, non fai Non mi Vai con livello 1 Ok, che fail Come si inizia questo? Questa Oh, what the fuck Oh, wow, si è bloccato tutto, perfetto Ci debbiamo buttare lì giù Vai Ma se... Oh, shit Se io sbaglio, sono morto, può essere Oh, shit No Ok, perfetto Oh, cavolo no Inizia bene Inizia molto molto bene, cavolo Che andavo a immaginare che devo beccare quel pozzo lì Non fai, ci sono altre prove più difficili Io ho un anno Bellissimo C'è un altro tipo arcobaleno Ok, mi sembri Perfetto Ah, no, ho bellissimo, non perdo gli oggetti, figa sta cosa Ok Ok, eh Ok, devo beccare Ok, no Ho paura Sì Sono il mago dei maghi E ho trovato un diamante Che mi è facile No, tu sei morto di nuovo Ok, ti aspetto qua e ti faccio tipo il tifo Che figata, ma quanto cavolo ci hanno messo per montare, per costruire una cosa così Oh, shit Sono caduto nell'acqua Fichissimo, cavolo Cioè io sono Io no Ma il tifo per me ho paura Ma what the fuck Beh Di un millimetro l'ho sbagliata, però comunque ho sbagliato, vabbè Oh, shit, son Eh, dove aspettare tipo tre ore Come faccio a vedere il mio Se vuoi tu Sì? Come? Se vuoi tu vuoi avanti No, no, ti aspetto Eh, qua, questo Questa avventura si fa in due Si fa in due Dobbiamo soffrire in due Oh, vai Ce l'hai fatta Sì Dove cavolo sei? Sì Sì, è vero che ho tolto il pvp Hai avuto culo Guarda Sei cattivo Ok, perché dico sempre Sei cattivo, non lo so Comunque andiamo Forse perché sono Allora Teleporti to next level Andiamo Vieni qui Premi questo boccino Questo Non funziona il bottone Vabbè, perfetto Cavolo, perché? Perché ci sono bottoni Non funzionano? Che cagata è questa? Non lo so Comunque dovremmo salire molto E quando dico molto Intendo molto Allora, aspetta Ci sono Qua ci sono due vie Tutto bottoni No, no, vieni qua Vieni qua Ok, allora Oh, shit Tu sali Fai sempre il tasto destro Sui carrelli E vedi che sali più veloce Qui sopra Dove vai? Che cagata Qui Ok, che devo fare? Oh, guarda Che figata Ma non finisce mai Sta salita Ok, ok Mi si sta Io sono una buona Salire Perché mi sto a destra? A me mi sta lagando il computer E non riesco più a salire Ok Oh, mio Dio Oh, shit Sto cadendo molto Ok, aspetta Dovrei salire Uno, due Mi sposto a destra Vabbè Io salgo dalle scale Perché cavolo Mi fa salire lì? Ti consiglio di salire dalle scale Sì, davvero Guarda Non mi fa salire dopo un po' E che cagata Forse è una fregatura di una pietra Quell'ultimo coso Tipo Trololololò Ciao No E a volte le scale Possono essere un po' Pesantucce Però fanno bene alla salute Ora tu dovresti andare sotto Accendere le scale E qua cosa c'è invece? Cosa? This lift is fast But only walk in single player Vai, fa la caca Scoprendo anch'io le scale, va Vai, va Quanto c'hai messo a salire? Io veramente non sono ancora arrivato Ancora no? Eh, ok, vabbè Allora mettiamo tipo quelle musiche Che si usano per ascensori Sì, vai, vai Ok, no Non so fare quelle canzoni BG Radio Cosa? Niente Oh mio Dio Sono quasi arrivato 3 secondi No, non si può tipo Tipo correre su Sulle scale O c'è un modo per correre Oh mio Dio Sì Se diventi Superman Forse puoi Eh che cavolo No, io sono Steve Oh, guarda Sembra che sto camminando sul muro Se mi metto così Sono Spider-Man Fuck Io ti aspetto Oh, vedo il buco Oh Non dire qualsiasi cosa Il buco è vicino Oh Vai Mi vedi? Mi vedi? Sì Grande Sono bellino, vero? No Ma che cavolo Dai che ce l'ho quasi fatta Dai 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 Vai Vai Te l'hai quasi fatta Dai 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 Oh Oh shit Pensavo di cadere Salviamo il checkpoint Se no qui si muore Ah Ok Cos'è che hai fatto? Ho salvato il checkpoint Checkpoint Cioè ma qui ci sono i bottoni che non funzionano Guarda 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 la diretta Diretta Ma dove stai andando? Oh non lo so sinceramente Devi venire qui Ah Ok Va bene Siamo più non possiamo fare niente Oh c'è un altro letto qua Oh questo che cosa Sì ma Deve esserci la notte non siamo Non perichemai questa brutta cosa Andiamo Ok perfetto Fall Cioè Caduto No Sì 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 Cadere Vuol dire Ucciditi Oh shit Oh shit Dobbiamo essere Con lui che parte Oh mio dio Ho paura Non ho anche io Aiuto Dobbiamo evitare Ah Au C'è la sta No Vabbè tanto c'è il checkpoint C'è il checkpoint Non preoccuparti Non darti mai lì Come funziona il checkpoint Ok Ok io ti vedo di Che stai camminando nel muro Vabbè Come No 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 Sono tutto regolare io Nel muro ma ora vorrei sapere Dove è il checkpoint Anch'io Anch'io Ok Oh mio dio Abbiamo fatto una gran ragione Perché mai Non sappiamo bene come cavolo funziona sta mappa Mi sa che dovevamo dormire Sai Sì però come facciamo Allora Mi non sono neanche Dovresti andare Dovresti andare sul server Dice Ops Tu ci clicchi E ti metti op C'è Metti il tuo nome Lì C'è Che puoi Che cazzo sto dicendo Vabbè Lì ti puoi mettere op Ok direi Forse Forse Oh è notte Ah no No Ok allora io mi ributto E Boh Vabbè Oh shit Questo video sarà solo i primi due livelli Capito Minchia ma Sempre Sempre di un millimetro E poi tu hai il culo Oh No no Questo questo è È pro Che cavolo c'è Oh c'è il mio cellulare che sta squillando Perché sta squillando Che cavolo Allora corre Ah no Come cavolo Ok a quattro notte Dobbiamo correre Oh dobbiamo andare Devi fare Sì Fai W Oh shit Mi sa che la prossima volta mi devo mettere come admin Cavolo Fare anche ora Oh mio dio Che cosa sta su No In realtà Fuori dal mondo Oh io neanche ti ho visto Ma perché io mi trovo Mi ritrovo qua sopra Aiuto No Che cosa sta succedendo in questa mappa Guarda io non sto Mi sto buttando da dove sei tu Cioè io mi ritrovo qui Poi mi ritrovo su un muro Mi butto dal muro e muoio Ma come cavolo è possibile Ok Ce l'hai fatta Ok ora è notte Dai ci dobbiamo spiegare F***** Ci vai avanti Ti consiglio di non prenderla fanno male no poi vedi poi vedi guarda il fucking ascensore ok non funziona questo ascensore con le scale oh shit no mi son oh son scemo son bloccato no mi devi aiutare sono incastrato ok ta 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 questo è un lavoro per superman oh cavolo grazie ok non funziona sta cagata e che cavolo di nuovo le scale oh fuck yeah questo come funziona vai guarda gli ascensioni no sono il solito idiota scemo stupido stronzo ora dovrò dovrò riscendere per andare a salvare il nostro homie oh non dovevo muovermi cavolo ecco mi ti spacco in occhio sotto così pochino oh 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 what the fuck ok bene dai usiamo di nuovo le scale vai oh dio oh perchè sei anche tu un stiff non hai più il tuo vestito non lo so sei nudo a questo punto bisogna accorciare un po' il video ma io eh si infatti ma io mi vedo ancora con la mia figata no che cosa no no come cavolo hai fatto mi stavo guardando in prima persona sono caduto giù cosa schiacci per guardarti in prima persona? f5 cioè non è in prima persona oh mio dio cioè infatti cosa stiamo dicendo? voglio dire in terza persona si dice che cavolo lo so che si dice in terza persona o meglio in grammatica o quello che che cazzo è non sono bravo beh neanche io quindi ora mi dovrò rifare tutte le scale tutto il buco fa tutta la cazza intanto intanto tu vai a dormire bello bello che è è ancora notte e faccia un tempo cavolo ok vedo il buco di nuovo oh mio dio tu ora vedi il buco quando io ho fatto due volte la caduta hello bellissimo cavolo comunque all'ultimo di quella caduta c'è c'è l'acqua cioè vicino al muro c'è l'acqua quindi tu buttati vicino al muro oh shit stavo per cadere di nuovo aspetta che sto arrivando ora se faccio di nuovo f5 sono un fail sa Allora, io metto un letto qua, così Ma questo checkpoint a che fucking serve, sinceramente? Non lo so, vedi dove ti porti Tu hai chiuso il checkpoint, sai? Tu avevi chiuso il checkpoint What the fuck? Che cavolo è successo? Io ho aperto il checkpoint e tu l'hai chiuso No, no, è aperto il checkpoint Ma vedi dove ti porta, perché non ce l'ha dato prima? Ok, vedo il buco Ce la posso ancora fare Guarda, saltando vedo un posto molto strano Però non riesco a capire bene dove Cioè, io non lo capisco, giuro Ok, allora aspetta, ora arrivo io Non ci capisco Minchia, qualche lunga sta scala 43 chilometri, com'è? Però che cagata, quando voglio dormire esco fuori dal mondo Che cagata è questa? Io lo so, è un bug Comunque ora Ok, vedo il tuo nome Sì Tu Yeah Oh yeah Ora esce, guardate qua Ecco Oh yeah Con il letto in mano Oh, cos'ha in mano? Oh, no! 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 Ok Aspetta Aspetta Vediamo dove porta questo checkpoint Ma che cag... Ma che cag... Eh, vabbè, non me ne... Non me ne porto Andiamo, ce ne lo... Non... Non dirmi che cazzo sto dicendo, non so parlare in italiano Vabbè, dormi nel letto Dormi in quel fucking letto Ok, papà Dormi in quel fucking letto Al tre dormiamo, un, due, tre Io già sto dormendo Cioè, io sto cadendo fuori Oh yeah Ce l'abbiamo fatta Grande Viola? Shit, ho perso il letto Dove cavolo è il letto? Non mi ha dato il letto Che stronza È messo per terra? No, ci ho dato un pugno ed è sparito Ah, me ne prendo un altro, va Oh no! Dovrei ridormire! Che cavolo hai fatto? Come devo ridormire? Se il tuo letto manca Poi non te lo salva il secco poi No, non posso più dormire Fuck! Vabbè Non fai Ora mi metto a piangere Ok Non fare Oh mio Dio Ok, questa volta non devo sbagliare Oh shit! Oh, what the fuck? Ma che cavolo? Io sono caduto No Ok, ok Ora mi incavolo molto Cavolo Fuck Oh, oh Ecco dove il checkpoint L'ho trovato Sì L'ho trovato Oh mio Dio Perché io sto cadendo Neanche mi sono buttato Però come cavolo funziona Dove cavolo è la via? Cioè, è un posto strano dove sono io Sembra tipo Ma Aspetta, io ti vedo Io vedo il tuo nome Che cosa sta succedendo lì da te? Non lo so neanche io Ho trovato tipo il checkpoint Ma qua sono tipo Eh? Cioè, ma guarda che sono intelligenti questi qua Ciao, qua vieni! Vedi il mio nome Vedi? Sì, lo vedo ma lo so Vengo a prenderli Come fai? Fai parkour Non c'è strada Sì, c'è un parkour Oh mio Dio Come facciamo? Perché mai questo? Ma guà che è una gran cagata Guarda, non si arriva avanti Che cavolo dovrei fare? Oh, io so sopra le case Faccio parkour sulle case, ciao What the fuck? Che io voglio andare all'altra parte Non voglio ricardare E rifare le scale E rifare tutte quelle cagate What? Come cavolo hai fatto? Scusa È da qui Eh? Ascoli, mi metto a rompere cose Anche se non dovremmo farlo Io lo faccio lo stesso Sempre se ce la faccio Sì, buonanotte Sì, solo che i blocchi in mano non ti restano Oh, aspetta, ho un'idea Vieni qui Ora se sei bravo in cura Dovrei saltare sul letto Sul letto? Perché non mi fa mettere il letto? Ebbè, mi sa che i letti non volano Ok Oh, aspetta Stai scendo quest'acqua Che succede? Oh, shit Che cavolo sto facendo? Yeeeh Yeeeh Ok, mi sa Mi sa che si muore Ok, qui dovremmo tagliare Secondo me Sì, penso anch'io di nuovo Oh, guarda Sono Dove cavolo sono finito? Sono in tutto un altro mondo Oh Dovrai morire Sali da cascata e muori Qua c'è Qua ci sono altre cascate Ma che cavolo Qua Siamo Non questa non è una mappa Non è una mappa È Alice nel Paese delle Meraviglie Guarda, davvero Oh, ho trovato Oh, che cos'è? Cavolo, non ci arrivo Come cavolo posso arrivarci? Guarda, dovrei morire Rifarti tutto Oh, è vero Mi sa che vado a bruciarmi Tu hai rotto il polettino Capito? Oh, shit Mi voglio bruciare Ma non ci riesco Devi risalire la cascata Dai, io ti aspetto Sono buono Ok Oh, dove cavolo Ma dove cavolo sono adesso io Yeah Posso andare sul c... No, che stronzo che sono Oh, shit Ma cosa sta succedendo in questa mappa? È demoniaca Ma davvero Succedono cose strane Chi è... Guarda Ok, che cavolo Ok, lui sta facendo No, niente Perché sparo coserando Ma poi mi fermo Cosa stai sparando? Non lo so Io dico, per esempio Lui sta salendo Ma poi mi fermo Dai, cavolo Che sta andando bene questa Sì Sì Non ho dovuto fare le scale Ok, però Ciao Ultimo, iubis Ok, come cavolo esco da... Oh, ok Cos'hai fatto qua? Ho spaccato menz'amato Vabbè Cioè io non vorrei ricreppare What the fuck Si mette a rompere tutto Voglio uscire Siamo dei trifuni Qua cosa succede se io apro? Oh, guarda, ho fatto una... What the fuck Ah, ok Che succede se io rompo qui? Oh, voglio aprire un checkpoint tutto nostro Oh, cavolo Eh? Di... Hai rotto mezza mappa Eh, vabbè, dai Vabbè, vabbè, vabbè 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 NUo dio Oh no Eh dai Sono già mai Eh che Cavolo È assurdo Davvero Id E' assurdo, è assurdo. Che succede se io rompo qua? Si devi fare OP. Sai come si fa OP, vero? Oh, shit! Dove cavolo sono di nuovo? Oh, sono di nuovo qua. Non va bene questo. Non va bene. Asco. Devo ricreparare. Oddio! E' troppo difficile. Cioè, questo succede solo a noi, capito? Stiamo distruggendo mezza mappa qua. Ok, vediamo cosa c'è qua. Oh, qua c'è una... Oh, ok. Ho trovato il modo più facile per scendere. No, non è il modo più facile, è il modo... Ma tu, quando tu crepi, ritorni nel punto dove eri prima. Sì, perché io non ho spaccato il letto. Cioè, io sono proprio uno stupido, eh. Che cavolo... Ok, dura un po' troppo. Io mi butto da qua, va. Allora, bene. Dai, dai, il buco in mezzo. Grande. Sono diventato troppo bravo a buttarmi. Oh mio Dio, perché c'è il braccio alzato? Cioè, questo bottone mi dice di mettere a notte ma non lo fa. Che cagata è questa? Mi stai prendendo in giro a gioco del cavolo. I bottoni non funzionano. L'abbiamo capito già da tempo che i bottoni non funzionano. Io intanto ci riprovo e ci riprovo a buttarmi giù. Però cavolo non capisco... Oh, sì. Però cavolo non capisco dove dovrei atterrare, sinceramente. Ma perché non si fa notte? Quanto dura un cavolo di giorno qua dentro? Perché io sterzo sugli alberi? Guarda. Vediamo se prima io arrivo sotto e poi ti butti te. Che cavolo... Oh. Ma poi a me il bello è che... Io mi butto, mi riporta dietro, poi mi fa vedere che sto volando. Vabbè. Eh, laga un pochettino forse, infatti. Oh, sì, ce l'ho fatta. Sono un problema. Come ce l'hai fatta? Non ci credo. Ce l'ho fatta. Invece. Invece se... Ma perché trepo? Perché devi mettere vicino l'acqua? Vedi che qui c'è una cascata d'acqua. C'è una cascata. Oh, fuck! Devo ripare tutto. Nooo... Anzi, io ora mi faccio una strada. Del tipo... What the fuck? Oh. Questo tizio si muove troppo faccio. Aspetta, eh. Forse ho l'idea... Ma io crepo! Cioè io crepo, mi mette stivo, poi dopo cinque minuti mi ritornarà a schimbo. Vabbè. Ho fatto una carata. Ho fatto una carata. Oh, mio Dio, questa mappa sarà un inferno. Ah, potevo salvarmi ma ho fatto una cagata. Oh, crap. Oh, no. Oh, è notte! Io intanto mi salvo il jackponcio. Come? Sta diventando notte? Sì. Eh, che cavolo, mi devo sbrigare allora. Arriva adesso per... Dai, 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 dai. Penis. Arrivato. Oh, yeah! Sono arrivato! Ora mi metto a dormire. Sto dormendo. Blah, 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 blah. Cioè, ora, 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 non devo rompere il letto. Devo stare in calmo e non rompere il letto. Bene, ora posso buttarmi tutto quello che voglio. Sì, però, basta che... Ecco qua il... No, ma quanto sono stupido. Non riesco a capire dove cavolo è questa cascata, sinceramente. Dietro di te. Dietro di me? E come cavolo ci arrivo? Se io vado troppo all'indietro, mi spacco le dalle. Vai, eh. È vista la cascata ora. Se no buttati all'incontrario e vedrai la cascata dinanzi a te, la maestosa cascata. Oh, oh, shit. Ho beccato un albero al pieno, proprio. Fuck. Gli alberi sono cattivi. Ma molto. Oh, dai. Dai. Allora, esse. Devo schiacciare, esce. No, shit. Oh, cascata. Oh, fuck. No, ok. Ora mi butto di così. Questa mappa, la... Cioè, questa mappa l'abbiamo iniziata proprio benissimo, eh. Ma perché? Oh, mio Dio. Non sai cos'è assurdo? Che c'è un punto in cui è tutto bianco e non si vede niente. Qua, non si vede niente. Io mi butto così. Io lo pianco perché è la neb... Oh, fuck. Non ci riesco. Dai, dai. Dai! No! Per un blocco! Sempre per un blocco! Dai che ti prendo io in braccio, dai! Butta! Dai! Oddio! Dai, dai, dai! Dai! Dai, dai! Sì! Sì, sono un grande cavolo! Dai! Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai, io ora mi ripeto il letto. No, cos'hai fatto? Hai rotto il letto. Sì, tanto ce l'ho lì su. Che cazzo ho fatto da... Vabbè! Si deve ributtare anche tu. Vabbè! Tipi! Cosa? Che cos'è un tipi? Vediamo se funziona. Ma non funzionano i bottoni! Che schifo! Oh, guarda, qua c'è di nuovo... Ci provo pure io! Vai! Che stai facendo? Ti sei messo gli amici, guarda gli insumi e fa... Bellissimo! Ma perché mi sposta a sinistra? Ti ho superato, mi sa. No! Cioè, ma a me... No, dai. Mi sposta a sinistra mentre salgo. Oh, cazzo... Anche a me, eh... Perché mai questa brutta cosa? Il tuo letto risulta mancante ostruito. Mi dovrò ripare tutta la mappa da... No! Minchia, no! Non mi funziona più... Eh, il coso... Mi sa che mi sono incasinato molto. Crap. Io sono un fe... Sono un fe... Di merdo. Faccio schifo. Mi sa che devo usare le scale. Eh, che cavolo. Oh, senti, mettiti admin... Admin... Dele trasferiti... Come funzionaление admin? Admini 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 Grazie a tutti.